Siamo particolarmente soddisfatti per questa grande manifestazione che si realizzerà per la terza volta qui a Borgata Costiera. Soddisfatti per tanti motivi, il primo di tutti è la cultura mazzarese che ritorna qui in questa borgata, le tradizioni che sono state sempre presenti nei nostri cuori e che forse nel tempo passato sono state un po' tralasciate. Ma grazie all'impegno di molte associazioni, grazie all'impegno di un consigliere comunale che è il consigliere Foggia, questa borgata costiera si è rivitalizzata, grazie anche all'impegno di artisti che hanno mostrato e che dimostrano l'eccellenza che c'è a Mazzara. Questa borgata sta assumendo un'immagine notevole non soltanto in Sicilia, mi auguro anche in Italia e perché no anche in Europa. Noi come amministrazione siamo soddisfatti di questo, stiamo dando un piccolo supporto così come abbiamo fatto l'anno scorso e siamo certi che quest'anno sarà un grande successo che supererà quello degli altri anni. Volevo soltanto ringraziare gli abitanti di Borgata Costiera e tutte le associazioni che stanno lavorando veramente con il cuore, hanno messo il loro cuore dimostrando che le tradizioni della cultura della città di Mazzara del Vallo sono quelle della famiglia e del lavoro e per questo le ringrazio e iniziamo oggi questa manifestazione, questa attività e ci vediamo poi il 6, il 7 e l'8 agosto qui a Borgata Costiera con numerosi cittadini, ma non soltanto di Mazzara, ma credo di tutta la Sicilia. È stata accolta una mia piccola richiesta che ho fatto l'anno scorso che ci sarà a Mazzara il giorno prima, il giorno 5, una piccola manifestazione che serve da avviso, se così si può dire, alla vera manifestazione che si terrà qui a Costiera appunto il 6, il 7 e l'8. Io vorrei ringraziare l'UNAC, l'Unione Nazionale Arma Carabinieri e le altre associazioni che saranno presenti per questa manifestazione, questo evento della Festa del Pane e anche il consigliere Francesco Foggia il quale ci ha proposto e ci ha invitato a questo grande evento dove parteciperanno tante associazioni, tante persone, tanti cittadini e noi abbiamo colto questo suo invito con grande entusiasmo perché noi siamo un'associazione di genitori, di ragazzi con disabilità, dunque diversamente abili e per noi ogni occasione di condivisione, di partecipazione è sempre ben accetta. Io sono ben contenta, io ho colto questo invito veramente con grande entusiasmo perché praticamente questa sarà l'occasione anche per noi per promuovere un'iniziativa che coinvolge la città di Mazzara. Questa iniziativa è un parco per tutti e questo parco è rivolto appunto a tutti i cittadini di Mazzara dai bambini a normodotati ai disabili a anche anziani che i quali diventeranno a loro volta anche diversamente abili perché sappiamo la vita si allunga ma si vive anche non tanto bene. Per cui è il nostro dovere come cittadini dare una svolta, dare un messaggio che è quello della collaborazione e della partecipazione. Tutti noi siamo chiamati a questa festa del pane a partecipare appunto. Noi qui siamo venuti a dare una mano, un contributo anche pur minimo, piccolo, però ci tenevamo ad esserci perché deve essere un messaggio di condivisione, di partecipazione, di volersi bene, stringersi veramente insieme in questa bellissima borgata costiera che sta vivendo una rinascita e con questa festa del pane tanto voluta dall'amministrazione e dal consigliere Foggia e questo deve essere un inizio, proprio una partenza per dar voce a chi voce non ne ha, in nostro caso sono questi ragazzi con difficoltà e diversamente abili. Questo parco deve nascere a Mazzara, questa è una nostra prerogativa, il nostro bisogno nasce come un posto dove ci sarà aggregazione, un'aggregazione necessaria per far sì che ci sia anche l'integrazione futura e la socializzazione e il gioco è il miglior modo per poter condividere le cose. Ecco, grazie di nuovo, ringrazio nuovamente tutti gli organizzatori per questa manifestazione e a presto. Saremo lì con un nostro stand dove la promozione avverrà anche con delle donazioni, insomma con delle piantine di peperoncino che è il nostro simbolo di molteplicità, di varietà multicolor così come la bellezza della vita, multicolor. Deve essere tutto un panorama colorato, diversamente bello. Sono contenta di salutare tutti a nome della Borgata e sono contenta che anche quest'anno nella nostra Borgata ci sia la festa del pane. Per noi questo è un momento molto atteso, molto atteso perché è un modo per stare assieme, un modo per fare nuove amicizie, un modo per scambiarci idee e opinioni e di crescere, di arricchirci. Aspettavamo veramente con ansia questo momento. È un modo anche per esprimere la nostra creatività e la nostra capacità di fare e di valorizzare tante persone e anche i bambini che sono venuti dalla casa Orchidea per aiutarci. Noi ringraziamo tantissimo il consigliere Francesco Foggia, l'assessore Bonanno, l'UNAC, tutta l'organizzazione e l'amministrazione comunale che ogni anno veramente ci fa questo grande dono. Ringraziamo il sindaco Cristaldi perché finalmente dopo tanti anni questa Borgata è stata valorizzata perché è una Borgata ricca di risorse naturali, culturali e umane che magari nessuno mai aveva attenzionato con dovere. Grazie a voi l'estate adesso si passa in compagnia, si passa in allegria e magari la monotonia che c'era un tempo adesso non c'è più. Grazie veramente di cuore a tutti. Grazie anche al nostro parroco che apre le porte della chiesa, apre le porte del salone e ci permette anche di fare tante cose belle. Do atto diciamo al consigliere Foggia e all'amministrazione comunale di essere presenti in questa manifestazione del pane. Questa è una grandissima occasione sia per Mazzara che sia per Borgata Costiera. Innanzitutto io ringrazio anche tutte le imprese commerciali che presentano quei nostri prodotti neocastronomici dal punto di vista perché da tanto tempo non sono stati neanche un po' tenuti in considerazione. Oggi grazie all'amministrazione e al consigliere Foggia queste attività commerciali sono presenti. Io quello che posso dire e faccio un grandissimo augurio sia al consigliere Foggia e all'amministrazione di tutto questo apporto che stanno dato a Borgata Costiera. Significa che ci sarà una realtà veramente inestimabile per questa magnifica Borgata. Oggi siamo qui per inaugurare la prima giornata della festa del pane. Quest'anno assume una grande aggregazione sociale. C'è una forte aggregazione sociale grazie a tutte queste associazioni che comunque si sono messe dentro questo contenitore che si chiama festa del pane. Io sono orgoglioso, l'amministrazione è orgogliosa. Devo ringraziare chi si sta operando per questi eventi. Ringrazio tutte le attività commerciali che si stanno spendendo per questo grande evento. Ringrazio l'amministrazione comunale che ogni anno sostiene l'UNAC per realizzare questa grande manifestazione. Questa non è solo arte, non è solo festa del pane. In questo contenitore ci sono grandi operatori d'arte che stanno facendo dei murales importanti presso questa Borgata che la stanno valorizzando. Una Borgata dimenticata dalla politica che è passata ma che da questi 5-6 anni a questa parte sta veramente rinascendo. Era ricoperta dalle cenere e noi ci stiamo lavorando attraverso la nostra enogastronomia, il nostro prodotto. Non è solo pane, ci sono diverse aziende della nostra città che comunque sponsorizzeranno e faranno degustare i loro prodotti. Abbiamo oggi qui diverse associazioni come l'Orchidea, la Chiesa di San Giuseppe, Santa Maria di Gesù, San Francesco che sono qui a realizzare il pane devozionale, il pane che comunque rappresenta San Giuseppe. Noi ci stiamo lavorando, ci stiamo mettendo l'anima. Tante altre persone magari ci possono poi criticare ma noi ci mettiamo la faccia. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare anche le periferie della nostra città. Borgata Così è una frazione che fa parte ed è parte integrante del nostro centro storico perché tutti parlano che l'amministrazione lavora nel centro storico, questa è la smentita ufficiale, l'amministrazione lavora anche per le periferie. Questo è un evento che comunque quest'anno delizierà non solo la nostra città ma parte della nostra provincia. Pochi eventi ci sono in provincia di Trapani, la festa del pane e il fiorallo occhiello. L'anno scorso abbiamo avuto una massiccia presenza di turisti, quest'anno stiamo puntando sicuramente a moltiplicare questa presenza. Ci stiamo lavorando con molta serietà, con molto impegno. Devo ringraziare chi ci sta coadiuvando, ringrazio tutti i borgheggiani che ci stanno ospitando. Questo significa sinergia, significa condivisione ma non finisce qui. Questa è la mia prima intervista, se ne faranno tanti altri e dico semplicemente grazie all'amministrazione che oggi con la sua presenza sta dimostrando comunque di essere vicino a questa borgata.